Onorevole Cota, troppe, davvero troppe le donne che subiscono violenza nel nostro paese, allora qualcuno come Rutelli ha pensato al braccialetto elettronico, ci tocchera metterlo davvero? Rutelli, insomma, ogni volta che parla sbaglia, nel senso che avrebbe dovuto fare quello che non ha fatto da vicepremiere, cioè avrebbe dovuto fare il decreto sicurezza, un decreto sicurezza adeguato in maniera tale da affrontare il problema. Oggi esce con queste battute che rischiano di essere offensive anche nei confronti delle donne, perché insomma non sono delle ricercate, semmai come tutti i cittadini sono una categoria di persone da difendere, invece sembra che tutte le volte che si affronti il problema le persone normali siano in difetto e quindi in qualche modo si debba chiedere sempre qualcosa di più e i delinquenti invece siano una categoria da garantire con qualunque tipo di misura. Il problema della sicurezza è un problema che va affrontato in maniera rigorosa e va collegato con il problema dell'immigrazione, cosa che la sinistra non ha mai voluto fare, perché evidentemente se ci sono degli immigrati irregolari sul nostro territorio questo comporta un aumento esponenziale della criminalità e una situazione di obiettiva insicurezza. Quindi facciamo un decreto efficace sulle espulsioni che dia dei poteri ai sindaci, così anche i sindaci di sinistra si dovranno assumere le proprie responsabilità senza fare il solito gioco dello scarica barile e soprattutto si affronti oltre che il problema degli extracomunitari anche il problema dei comunitari, dei romeni in modo particolare. La Lega e gli amministratori della Lega rilanciano le ronde padane, qualcuno come Di Pietro invece fa dei rilievi di incostituzionalità, siamo a questo. Di Pietro anche qui parla spesso e non sempre in maniera molto appropriata. Le ronde sono perfettamente legittime, del resto noi non abbiamo proposto niente che sia contro la legge, perché siamo molto attenti anche a garantire i cittadini che seguono le nostre iniziative. Esistono già delle realtà che efficacemente collaborano con le forze dell'ordine. Per esempio a Milano ci sono i City Angels che sono una realtà operativa da oltre 15 anni che sta anche andando ad operare in altre città, perché è probabile che arrivino anche in Piemonte. Noi siamo ben contenti di questa notizia. Molte amministrazioni si stanno già mettendo in contatto con loro o con altre realtà. Quando noi parliamo di ronde parliamo di cittadini che si mettono in campo rendendo un servizio alla comunità per meglio presidiare e controllare il territorio ovviamente chiedendo di collaborare con le forze dell'ordine. Sono uno strumento valido e del resto dal momento che lo Stato fino ad oggi non ha dato alcuna risposta è chiaro che i cittadini di fronte a beni importanti, qual è il bene della vita e della sicurezza cerchino di fare qualcosa per aiutarsi tra di loro.